giocheremo mister gumball guarda qui vedo delle persone che giocano forse questo dove dovremmo andare ok sorella io so dove dovremmo andare guarda qua guarda a me guarda a me non posso credere che siamo in questo pet shop bla 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 in questo gum shop non pet shop si pensiamo qualcos'altro entriamo qua pensavo che qualcuno ci stavo guardando oh mio dio ho visto qualcuno che ci stava guardando appena oh ci sono dei chupa chupa blam che buoni e se ci stavo io in questo posto potevo no scusa scusa ti aspetto vabbè qui è dove abbiamo messo abbiamo visto sta persona abbiamo visto la persona che salta questo qua all'inizio ricorda quello che c'è scritto play ho preso di le bubble gum di la chocolate di lollipop qua dove era play vero io ho preso di jelly che ci sono il resto poi ho preso di bubble gum e poi ho preso di lollipop è vero l'inizio che c'era scritto play era questo guarda qui era questo schermo proprio è vero che bello che bello va vero fratello si io ho preso questi switch che ti usano ho preso cross in candy bubble gum oh mio dio mi butto attaccanti oh mio dio chi è là dentro aspetta qualora l'abbiamo visto pure lui all'inizio vero si che strano una zipline prendiamola jump to this man oh mio dio ecco il nostro amico oh susi peekaboo misterious porta oh ah che male chi è che sorride oh mamma mia chim le sorride– di miu lui lui io lo vedo io lo vedo l'ho hai un poole lì somma è una zipline in più questo vado sc história mi sta sorridendo tutto voi io non so un bello stesso tico mi hai da guardare molto più di così che sembra davvero non lo aspettavo e neanche io con il fuoco ciupa ciupa entra entra ha il cioccolato io ho preso bubblegum lollipops e poi i crusted candy si ho preso tutte queste cose in questo workshop dove stanno questi candies e tu devo dirti una cosa non fa senso ciao Susy ahah ti sa molto candy mi sento puzza di qualcosa oh mamma mia mister bubblegum mister bubblegum mister bubblegum è qua e sta mister bubblegum se lo so che mi sarai giusto oh no no vabbè un pochino da gli occhi no 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 mister bubblegum oh wow 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 sto sparando le sue gumi posso mangiarle? no ecco che va ecco che va è molto bella ma vabbè per lo pò e non lo so per te non è per te non è quello è un po' di ciò per te non è quello Sì, scala, scala. Aspetta, ve lo preso. Ho trovato questa nadea. Io ho trovato questa nadea. Perfetto. È là adesso. Devo andare su quella scalina. Uh, è molto petante, diciamo. Sì, sì. Find a i ladders. L'abbiamo già presa. Ecco, scusami. Eh, va bene, lo potevo leggere prima. Non fa niente. Ora saliamo questo, aspettami. Abbiamo tutto il prezzo, il magico prezzo. Ok. Un magico prezzo più popolare. Wow! Candy! Sto mangiando le candies! Ho mangiato le candies! Vado al mio prezzo, com'è il cavolo. Wow, dillo ancora. Ho mangiato tutti i candies! Oh, mio Dio. Che buono, mi è piaciuto. Erano buone, l'avevo visto. Sono morta. No, pure io. Sono brava. Cosa ti stavo facendo? Ma cosa... Dobbiamo saltare... Cos'è questa cosa, dude, pud? È il cosa che abbiamo usato prima? Alla start? Che ci fosse salzare qualcosa che ti spingeva? Vicino a qualcosa, bambino. Oh! Sono morta! E lo so di piccola. Non ce la faccio. Look down. Non ce la faccio. Ho visto qualcuno! Chi è? È proprio il ragazzullo. L'avevo visto pure io, davvero. L'avevo visto un pochino io. Quei ho visto... È quel bambino. È quel bambino? Sì, ho visto la sua testa. Pensavo che lui... Pensavo che lui l'aveva finito e ci sa... E stava mangiando il suo pochino. Ma perché, capito? Cosa fa laggiù? Aspetta, ho le mie magic powers del... Ok. Power del pretzol! Salvami! Salva mia sorella! Salvera a tutti! Look down! Look down, aspetta. Guarda qui. Se mi metto io qua con il mio power del pretzol... Ci sta un bouncy pad. Ce l'ho fatta. Perfetto. Ok, dai. Usciamo. Che cosa ci sta qui? Ah! No! Ci siamo spinti insieme. Sono pure io caduto. Vabbè. Aspetta! Ci sta un fan! Ci sta un fan! Ho capito! Ci sta un fan! Ecco! Perché mi spingeva. Ah, ok. Quindi non siamo spinti. Non è che noi abbiamo spinto tutti due. Ci sta un fan che ci stava spingendo. Sì. Che buono quelle... Ehm... Ah, vabbè. Che buono quelle carne però? Che abbiamo mangiato io. Troppo è me, drop! Drop cosa? Sì, c'è scritto drop! Sì, ma cosa abbiamo drop? Eh sì. Io... Io... Pure a me c'è scritto drop! Ma cosa devo s... Ah, qui dobbiamo fare un'altra gara? Dobbiamo fare una race! Aspetta, mi aspetta un attimo la voce. Scusi! Voglio sentire? Wow! Facciamo un posto. Un rock'n'roll music. Un rock'n'roll music. Ehi! Che c'è? Che c'è? Io sto facendo il cheating pure. Wow! Che c'è lui che sta facendo? No! Uuh! Io sto... Un altro... Un altro... Un altro... Un altro... Un altro... Un altro... quindi... Quindi mi sova già... quindi mi dovevano... state oltre. Venite ni! Perché sentite un hole. Non ciò! Dunque è... Uffa! Son tanto veloce! Son tanto, e' pure a me. Quando vou- Ok... Si potevano saltare perchèoghè potevano... Non ti va anche put Ahí. Per année di 예. E stop! Non ti va anche una foto! P troop! Si education. åo bel! io non ho preso la fibra non lo so oh mio Dio te lo sento il cazzo in gruppo aspetta il bambino di prima si non se lo faccio esplode perchè? ah ma mi sto fermando però io devo fare le vento a fermare se no arriva vicino a me eh si ma se ti chiedi cosa succede oh ma è lontano perchè prima lui era davanti da me e poi lui era laggiù e io ho preso e io ho preso e io ho preso e io ho vinto ma dove devo stare? ah non ho preso la mia linea è tipo blu ah no ho preso la mia linea ma dove sto ora? è qui è vinto è vinto ho preso 100 milioni di vetri è vinto è vinto è vinto è vinto finalmente siamo sono fatti prendiamo sto elemento dai ma perchè dice ah siamo in una dungio un'altra volta eh siamo stati in questi duggi in un sacco di volpi eh perchè ci avete portati qua? dai fammi uscire vabbè vabbè Susi noi non lo sapevamo Susi si sta da tu a portarti qui non noi mi ha preso Susi l'ha fatto si Susi ci ha detto perchè ci avete portati qua? davvero Susi davvero se sei la nostra amica dimostraselo perchè quindi com'è? lei ci ha detto ad andare su elevator quindi sono scesi e ci ha dato la nostra cosa oh mio dio ci sono delle ragnatele li distruggo io oh si butti il basso Susi ci ha portato qua ma perchè Susi ci vuole penso che noi penso che era colpa nostra ma non è vero perchè noi non lo sapevamo che quell'elevator faceva così no Susi dovrebbe saperelo vero? no perchè Susi ci ha portato qua Susi è tipo il mosso sembra un pochino come quel bambino è vero che lei si trasforma in una cattiva ehm che ti aspettano bene wow non lo sapevano ma come è ma pensavo che l'avevamo ucciso no no una finca l'avevamo ucciso è una star perchè l'avevamo ucciso ah non lo sapevano ha capito non lo so no ma sto un bottone è un bottone che è che se Susi ci ha sfumato nella cattiva forse Susi si ha sfumato nella cattiva E' cattiva? Ti vuole uccidere! Oh, è scomparso Non lo avevo, era cattiva Non lo faceva il trussino La prenderò Ma non è fuggiato nulla Non lo faceva il trussino Già era cattivo E' cattivo E' cattivo E' cattivo Ma scomparso Ma trucco Ma scomparso Non se trape Ma scomparso Tu lis le! Non is false Non è... Non è un sacco Non è stupido Non è questo Non è un sacco Non è un sacco biti Ma scomparso L'uccita! L'uccita! No, mi ha presa! L'uccita! Si, l'uccita! No! L'ultima volta! L'uccita! No! Mi deve ancora... Mi deve ancora uccidere! Oh, mio Dio! Ha fatto ancora un'neta sotto i power skating! Oh, mio Dio! Augè, mi piace di più! Può già riuscirò a più più! Mi fa due questo! Non mi piace di più! No, non mi piace di più! Non mi piace di più! Mettila! È davvero bello! Ha due cose alla volta! Ora... Ora si che è davvero arrabbiato Perché c'è il tempo di bravo Ma da lui quando fuoco Dove è stile fuoco Ma il tempo Il tempo lo dico E' una bravissima Il tempo lo dico Grazie Non è vero Vuol dire che arriva un'altra mega 2d Non è vero? Ah pure il rumore Io non ce l'ho fatta Finalmente Susi non veniamo mai più qua con te L'ho uccisa L'ho uccisa Perfetta Ciao mamma Statua di te Mr. Ugly numero 1 Ciao Ciao a te Simile vero Mr. Ugly numero 2 Si stai muovendo pure Ciao papà Ciao papà E' stato molto brutto Sì mamma Facciamo finta E' stata una bella giornata E' stata una bella giornata Sì è stata una bella giornata Oh fammi ballare Ok una cosa Possiamo prendere i super powers No sono i gumi balls No sono i gumi balls Ma certo sono i gumi balls Oh mio dio sono alla start Oh ma che No Susi non siamo trapped Extra speed Dove sei andato Io Avevo visto la persona che ci stava No 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 Vabbè Ma Tutti quanti Oh mio dio Se vi è piaciuto Oggi Questo video Sì No Amate E date un like Ok Se Oggi Potremmo fare una cosa Ok Se voi non vi piace Se non fa niente Lo diamo più da noi Like a voi Sì Ma Non stiamo parlando di questo Sì Solo per una spiegazione Ma Se vi è davvero piaciuto Sì Dovete subito mettere Il like button Il like button E il subscribe Su Francesca De Lucia Channel Pure se non è il mio nome Ma Se vi è piaciuto Date un like E ciao E a parte di like Ciao